Musica Tronometro Terra dei Castelli, prima coppa Dentalcom, categoria Juniors 5, 4, 3, 2, 1 Parte anche la meta della Feralti Monteclarense Ricordo per i marchigiani in palio la maglia regionale di specialità 3, 2, 1, eccolo Pietro Ciccioni 5, 4, 3, 2, 1, parte Matteo Stizza Miglia Savini con la presidentessa Maria Sbernati Savini e team manager Vittorio in ammiraglia Claudio, Francesco e Stefano 3, 2, 1, parte Lorenzo Casadei Attenzione perché ci sono i primi arrivi 5, 4, tanto salutiamo lo start, anche la partenza del prossimo Junio Luca Piscone già in rampa di lancio, un occhio anche a quello che sta succedendo, indirittura d'arrivo 21, 58 e 37, quindi mixeremo partenze d'arrivi 21, 58 e 37, per quanto riguarda il tempo da battere Tanto è arrivato con il dorsale 5 Francesco Foresi Terzo tempo provvisorio, 22, 34 e 71 Tanto rientriamo con le mo' 3 secondi, 2, 1, eccolo il via di Riccardo Meschini Atleta classi 99, l'hanno passato lì dalla corsa di Alba Primo anno in categoria, campione regionale marchigiano, l'hanno passato, 3 vittorie per lui Già secondo Casal Guidi in questo 2016 5, 4, 3, 2, 1, parte Matteo Carboni Team Franco Ballerini, 11 vittorie l'hanno passato, tra le quali spicca sicuramente la Lugo San Marino Il piccolo giro di Toscana, campione regionale a cronometro l'hanno passato Quarto al tricolore di San Vito al tagliamento Quest'anno è giunto terzo Calenzano, quinto a Torano e ha vinto la crono di Città di Castello Ci siamo, eccolo, Andrea Innocente regionale su strada E ha vinto la crono di Mongrando in provincia di Biella Secondo nella crono di Città di Castello E quinto nella prova di Luni in provincia di La Spezia Che lo ha consacrato, leader regionale Marco Burgano, per Marco mancano 10 secondi Marco Burgano Sale 44, per lei il momento della partenza è fissato per l'ora 13.46 Grazie a tutti